Non varrà una stagione ma potrebbe consegnare a una delle due il titolo di campione d'inverno ma ciò che più è certo è che i riflettori sono tutti puntati sullo stadio Adriano Caprarese Spoltore Chieti può influenzare l'inerzia del campionato da una parte e dall'altra calcio di punizione sul fronte sinistro offensivo per lo spoltore Bordoni dentro per la testa di Ranieri il palo del centravanti preferito a Cabanes dal primo minuto nel tridente completato da Bordoni e il sindaco Grassi vantaggio mancato in apertura la reazione del Chieti è rabbiosa sull'inserimento di Rodial tocco con una mano di Raffaele Buonafortuna calcio di rigore trasformato da Augusto Marfisi beffato Fabrizio De Torre Marfisi che realizza il terzo gol in campionato fuori del Gado in attacco nel Chieti Cellucci supportato da Miciche e Rodia iniziativa di Roberto Gonzales nuovo salvatore sicuro in presa staffetta con Alonzi per lui è aggressivo lo spoltore recupera palla a centrocampo Ranieri per Bordoni che prova a piazzarla sul secondo palo risponde il Chieti con l'incursione di Calvarese dentro per Cellucci De Torre respinge Miciche in seconda battuta 0 a 1 al termine del primo tempo immagini e montaggio di Mario Giacchetta funziona bene l'asse Farindolini Rodia De Torre evita il raddoppio quindi pericolo spoltore con Nuevo che non c'entra lo specchio della porta Ronci si sbilancia dentro anche Cabanes per Bordoni e manca l'1-1 lo spagnolo che brividi per il Chieti che nella ripresa si abbassa ma non concede granché piazzato nel finale sul pallone di Camillo col destro a rientrare o di Pentima di potenza calcia quest'ultimo si infrange sulla barriera come le speranze dello spoltore allo stadio Caprarese passa di misura il Chieti i neroverdi sono campioni d'inverno Allora Lucarelli avete anche un po' sofferto la partita però alla fine siete campioni d'inverno Sì conta poco però la cosa importante è che abbiamo fatto una partita da squadra nel senso ci siamo defesi nel momento in cui dovevamo difenderci perché era quella la lettura ma abbiamo anche approcciato bene l'abbiamo preparata bene, l'abbiamo presi alti e loro sono andati in difficoltà eccetto il palo iniziale su una palla inattiva mi sembra per il resto credo che nel primo tempo siamo andati meritamente in vantaggio potevamo fare altro gol nel secondo tempo la partita è chiaro che noi un po' di inerzia ci siamo abbassati perché ancora non siamo assolutamente pronti per fare una partita a 95 minuti come nel primo tempo Allora Dorato Ronci è arrivata la prima sconfitta al Caprarese anche se è una gara decisa dagli episodi voi avete colpito un palo il Chieti ha segnato poi sul rigore Sì purtroppo noi il primo tempo secondo me gliel'abbiamo un po' regalato sul piano del gioco abbiamo avuto un po' di timore non nel giocare sta palla da dietro e secondo me potevamo fare molto molto meglio di quello che abbiamo fatto però noi abbiamo preso un palo e loro hanno trovato l'episodio del rigore secondo tempo credo che la squadra finalmente ha cominciato a giocare come volevo io e con grande personalità e credo che alla fine il risultato del pareggio credo sia abbondantemente il risultato più giusto credo sia abbondantemente il risultato più giusto